Questa roba nociva, con le scaricate, con le ponderie, roba tutta a me scaricate. E queste le hanno buttate tutte le frattiche. Non hanno scusato, ma fatti questo. Ma perciò noi morimmo a casa. Beh, è dire fino a che la patruzione civile, la patruzione civile che ha fatto? Alloate, che ha fatto? E in otto tempo, in otto tempo la camorra, o più scaricano. Qualcuno che ha amazzetto, dice ma la camorra, dove sono i politici, sempre lo cadere ai politici, perché l'autorità non esiste, non esiste una ferma contro la loro territoria, esiste i soldi, perché stanno tutti agghiottando, e noi morimmo. Questa è la situazione, eh? Che lui mi aveva morto, che le si è felicità che si vanno a terra. Ora fare 3-4 ore, se fornisce e ne consuma, ma se mettono a terra, e se ne sei sentito non andrà a terra, come l'umanità. Grazie a tutti, come l'umanità.